Ben ritrovati allo spazio dedicato agli appuntamenti. Domani ad Albino si tiene la prima edizione del Festival delle Passioni. Il centro storico sarà lo spazio adatto per mostrare i propri hobby ed abilità manuali. L'iniziativa si tiene dalle ore 9 alle ore 19. Sempre domani, presso la chiesa di San Bernardino a Laglio, si esibiscono gli allievi della classe di canto dell'Istituto Superiore di Studi Musicali Donizzetti. Il concerto inizia alle 21, l'ingresso è libero. Ci spostiamo a Bergamo e domenica al Convento di San Francesco, in Piazza Mercato del Fieno, si inaugura la mostra storica intitolata Francesco Nullo dall'Italia all'Europa. Le visite sono libere per tutta la giornata, con possibilità di visita guidata gratuita alle ore 16. Per quest'ultima è necessario prenotare allo 035 24 71 16. Ancora domenica e sempre a Bergamo, presso l'Arciblume di Via Gorizza si terrà lo suo party. Dalle 14 alle 24 sarà aperto un mercatino del libero scambio e dell'usato. L'ingresso è libero e non è necessaria la tessera Arci. Lunedì, presso il centro Il Riccio di Palosco, all'interno del percorso per giovani e quindi riuscimmo a rivedere le stelle, interviene il professor Silvano Petrosino con una relazione denominata Sogno, Desidero, Scelgo. L'incontro inizia alle ore 20.45.